Nome Metà Simone Soprannome Girlo Sarda Altezza 206 178 me lo regalo Ruolo Opposto Libera Numero di maglia Sei Numero tre Come ti chiama la tua mamma? Amore Simo Che cos'è per te la pallavolo? Per me la pallavolo è un scacchio fisico Passione Abnegazione Aggregazione Il tuo ruolo nello spogliatoio? Per tutti Pagliaccio Come Per squadra B Un leader Presidente Da collante Qualcuno che è sempre disponibile Che è naturalmente uno del luogo Quindi che aiuta anche gli altri a di fuori Dello spogliatoio stesso Cosa ti piace di più oltre il volley? Altri sport NBA NFL Le passeggiare con il mio cane Il tuo punto debole in campo? Difesa Pensare troppo alla pallavolo E nella vita? Parlo troppo Penso un po' troppo testato In quale nazione si gioca la pallavolo più bella? Italia, sicuro Al momento credo in Italia Il tuo titolo di studio? L'architetto Scuola superiore, liceo Scaramanzia e pregara? Io gioco Candy Crush Saga Insieme a Garge e Corra Sono dei riti che facciamo durante Prima della partita, dai! Bionde o brune? Brune Brune Sei timido? No Si Romantico? Si Ti ami mia ragazza? Si Il tuo compagno di squadra ideale? Dante Marie È un compagno che è disponibile Lavora per il bene della squadra La tua canzone preferita? Il nome è Bore Bore Malibu Sono Palme e i cocktaili di vita Nami è Malibu Pitta mi sta pia Ona cazza Malibu Ona vuole money Ona vuole money tu Ona vuole menù Bella di giovanotti Dai, canta per noi Bello Come una Marti E acqua cristalli L'avversario più simpatico? Modena Forse perché è anche un mio vecchio amico Che conosco da tanto Daniele Davia Il tuo vizio? Pasticciotti Pasticciotti da buio Ma non dirlo da allenatore La tua paura? No, no, no Il buio Chi vince il prossimo Scudetto? Secondo te? Vivo Valencia Trento Saluta i tifosi della Tonno Calipo Ciao famiglia giallorossa Ci vediamo presto Kiss kiss a tutti Un saluto a tutti i tifosi E spero di incontrarvi presto dentro e fuori pazze Grazie a tutti i tifosi No, no, no No ma non No ma non No ma niente La parola